Bologna Inside, signori abbiamo niente po' di meno che Iskra Menarini e cosa fai qui in Comune? Mi sventolo. Cosa fai qui in Comune? Hai caldo? Ho un po' caldo penso come te, stavo guardando un piccione, un cucciolo di piccione, io guardavo anche per terra, non solo per aria e poi sono passata davanti alla casa di Lucio, ho visto tutto chiuso e ci stai un attimo. Tu hai il cuore buono perché a parte che lei ha una gran voce che non so come faccia. Vabbè, ho il cuore, mi accorgo, sì, faccio, fa parte, amo gli animali, quindi il piccione fa parte, anche so che c'è la guerra dei piccioni, però mi piace. Beh vi viene in mente un video che avevi fatto con Lucio, attenti al lupo, attenti al lupo. Ma lui parlava degli esseri umani veramente, non del lupo, quello animale, parlava appunto, raccontava attenti al lupo perché l'uomo quando non riesce a ritrovare l'amore, l'amore in senso di versare, diventa un po' un lupo, no? Quindi si isola, no? Per pensare come fare per accalappiare o per prendere le cose degli altri, era un po' questa cosa, questo gioco. Come ti sei scoperta cantante da bambina? Penso, sai, nasci cantando nel senso da ragazzina, ho studiato anche chitarra classica, solo che dovevo imparare la musica, quindi non le volevo a mezza. Cioè quindi poi niente, mi sono trovata nelle cose di scuola, le commedie, poi ho fatto una stanza classica e così poi mi sono, io non abitavo a Bologna, poi sono venuta a studiare a Bologna, penso, vi arriva Reno e allora c'era un conservatorio dove comunque tu potevi studiare il canto lirico, no? Così per caso poi ho incontrato Andrea Mingardi e così mi ricordo sempre andare con degli amici, che io ho una ragazzina ancora, Mingardi così mi dice, ma te canti, sai quelle cose? E mi face fare un brano sul palco, secondo me è straordinario, mi riesce non solo a cantare ma riesce anche a tenere un pubblico e poi ho incontrato mio marito che sono 45 anni ormai, 45, complimenti, quindi non fu Dalas, ah previ, complimenti per questa cosa, comunque non è stato Dalas a scoprirti ma Mingardi. Beh, è una dimensione talmente diversa, io venivo dal blues al rock, io ero un cantante di un gruppo che si chiamava L'Ottomso, facevo rock di par, blu-ray, gentile gine, c'è un mondo sicuramente al maschile comunque molto affascinante fatto da una donna e poi è stato proprio per caso incontrato, io non seguivo la musica di Lucio, sapevo che, sai Bologna era un po' di nicchia il cantautore, poi alla mia età, insomma, amavo altre cose. E poi è stato proprio per caso, ma tanto tempo dopo proprio, diciamo così, la mia musica, l'ho trovato L'Ottomso che non ero più una ragazzina perché avevo 40 anni, quindi è il fatto che lui, così mi ha, in una serata di beneficenza che c'era appunto anche Corriere, tu pensi che io ho suonato anche Corriere quando erano le 5 lire, cioè intendi, quindi diciamo che c'era Martò, Marzio, sai tutti questi musicisti che c'erano in gruppi, Jimmy Villotti, io mi ricordo questi, forse un mondo sicuramente molto musicale, purtroppo adesso sono cambiate tante cose, purtroppo che la musica è molto in crisi, speriamo che veramente si tornino qua. Volevo che lasciassi un messaggio ai giovani che si sacrificano, provano a cantare, ma non trovano nessuno che le aiuta pur essendo bravi. Secondo me i giovani di oggi sono figli anche del nostro tempo, cioè è tutto cambiato, oggi vai su internet, trovi addirittura dove vendono, non so, un dentifricio, capito, non so, particolare, oppure, quindi sicuramente chi ha vissuto la musica come me è chiaro che fa fatica a pensare che possa essere così, ma invece è così, io vado, mi piace il mondo etnico, la musica elettronica, quindi vado, pensa se una volta dovevo studiare un pezzo, per avere un disco non c'era manco il testo dentro, quindi dovevo imparare la pronuncia, e quindi sicuramente figlio del nostro tempo, i giovani sono esattamente e questa è l'unica cosa che spero tantissimo, che Bologna ritorni la città della musica, l'UNESCO aveva dichiarato appunto in una serata in questa piazza con Lucio, c'era Patti Smith, c'era, come si chiama, Renato Zero, c'erano tantissimi artisti e fu dichiarata dall'UNESCO città della musica. Ecco, io mi auguro che per i giovani ci sia in ogni felicità la musica, e che non sia tutto così complicato, perché non è giusto, e mi ricordo sempre nei testi di Lucio diceva che tutto parte dall'amore, che non è solo un uomo o una donna, ma come tu costruisci le cose, ecco vedi per esempio guardava un piccione che mi fermo, c'è quello che non lo fa e quello che lo fa, ma non perché uno è speciale, ma perché è abituato a guardare altro, ecco io auguro ai giovani di guardare anche attorno a se stessi per fare musica non c'è solo quello che va in televisione, cioè costruire proprio la musica addosso, e abbiamo talmente tanti geni attorno anche, Lucio non c'è fisicamente, ma io sto scoprendo, sto andando in tutta Italia a cantare la sua musica e sto scoprendo cantare Caruso, cioè è una cosa che ti prende l'anima, quindi pensi che l'ho sentito 24 anni, ecco io auguro ai ragazzi di scoprire quanta musica c'è, quante cose possono fare non è sempre la televisione, poi è chiaro se uno riesce ad arrivare ma la musica fortunatamente la puoi fare anche sotto la doccia, giusto, giusto e quindi fatta è libertà, libertà e amore sicuramente, ecco questo gli amore, quindi finiamo l'intervista così, Isacco, Isacco, Isadora, Isadora Duncan, Iscra, 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 Iscra Menarini, prima non posso dire come mi ha chiamato, è fortuna che non è stata ripresa, Bologna ciao